Signori, voi tutti sapete, ma anche meglio di noi, visto quanto ci volete bene e quanto siete attenti, che a mezzanotte, quindi giorni 22, io e Pietro facciamo un anno, volevo condividere con voi l'emozione, la gioia e la felicità di esserci arrivati. Mezzo io più paura di te. Perché? Non lo so quanto può essere il più grande di me questa cosa. E non è la cosa che ho preventivato, o che ho deciso al tavolino, come sempre faccio nella mia vita. Io voglio essere una certezza, tu su di me puoi raccontare una certezza, tu su di me puoi raccontare sempre. Io voglio solo che tutto vada per il meglio e voglio che domani sarà meglio di ieri. Veramente mi sento molto preso da te, è qualcosa di molto forte. Mi piace tantissimo, tu lo dico al cuore. E non mi trova di prenderti, di diverti tra le mie cose e tra le due cose. Buongiorno ragazzuoli. Ragazzi, grazie a tutti per gli auguri, siamo raggiando un sacco di messaggi benissimi. Grazie ragazzi. Grazie, grazie mille. Un anno e siamo ancora partiti.